Stasera andiamo al cinema Stasera si va al cinema Arriviamo a casa alle 10 Si arriva a casa alle 10 Studiamo le lingue classiche Si studiano le lingue classiche Si fermano due giorni in città Ci si ferma due giorni in città Devono essere puntuali Si deve essere puntuali Si svegliano presto la mattina Ci si sveglia presto la mattina Devono essere fatti dei compromessi Si devono fare dei compromessi Possono essere trovate altre soluzioni Si possono trovare altre soluzioni Devono abituarsi a questo orario Ci si deve abituare a questo orario Grazie a tutti 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 Grazie a tutti